Bentornati a tutti. Oggi è sabato, 9 dicembre, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Capricorno. Faccende svaghi sul piatto della bilancia. In bilancia, in realtà, c'è la bianca signora che oggi guarda di traverso voi e il vostro inquilino Mercurio, la casa prima di darvi agli addobbi reclama una bella ripulita, in famiglia poi qualcuno, magari un anziano, ha bisogno di voi e non va lo manda a dire, ma la voglia di godervi questa vacanza e svagarvi finisce con l'avere la meglio sulla vostra coscienza. Amore senza ostacoli e confini, se un partner affettuoso e complice c'è già godetevelo, se manca cercatevelo. Incontri con persone giovani che sarebbe meglio evitare, sarà meglio non riporre troppa fiducia in loro e essere attenti e vigili. Un giovane che ha nei modi molta arroganza ed egoismo, una persona che cerca solo la fisicità in un rapporto, che non desidera impegnarsi seriamente. Delle persone intorno a voi spettegolano alle vostre spalle e non sono per niente sincere. Il mal d'amore è una brutta faccenda, per chi ne soffre oggi non è una giornata rilassante ed ideale. Bene invece i piccoli colpi di fortuna. Non lasciate che il passato rubi il vostro futuro, cercate nel passato solo le ragioni delle vostre delusioni e dei vostri fallimenti, ma allontanatevi da esso. In questo modo sarete pronti a vivere un nuovo presente. Provate con un colpo di spugna a mettere da parte ogni incomprensione ora concore verso alcune persone che in fondo vi migliono bene. Provate a parlare loro con il cuore piuttosto che con la ragione. Se state vivendo una storia extra con un ugale o clandestina, chiedetevi oggi se avete davvero ancora voglia di proseguire su questa strada. Potreste avere dei problemi per questo motivo, e in questo particolare momento non è il caso. Avete l'autorevolezza e mettete il cuore in tutto, forse troppo, così la gente si approfitta di voi. Nel bene e nel male dovrete fare i conti con la realtà, se avete bisogno di un prestito, sceglietelo tra quelli più convenienti e le cui condizioni rispettino non solo le vostre esigenze ma anche le vostre disponibilità. Non fate passi più lunghi delle vostre gambe. Vi sentite avviliti? Niente paura inizia una schiarita, giove e marte vi daranno nel corso della stessa giornata opportunità nuove per iniziare a risalire la china. Di certo i prossimi giorni potrebbero sorprendervi. Persone invidiose. Porta con te qualcosa contro le negatività. Frequenta, o cerca di frequentare, solo persone ottimiste e positive. Occasioni per dimostrare agli altri che meritate la loro fiducia ce ne saranno, in particolare a persone che tenete. Se sforzandovi di piacere agli altri troverete anche il coraggio di cambiare il vostro stile di vita, tutto riuscirà alla perfezione. Profilo planetario che vi veda le prese con un aspetto dissonante della Luna in bilancia, fate attenzione a non usare toni troppo forti in famiglia con chi non vuole sentire le vostre ragioni, specie se nati dal 7 al 13 gennaio. Comunque oltre a questo aspetto, nessun pianeta vi rema contro adesso. Attenzione a non spingere troppo verso le vostre ambizioni. Quante velleità con la Luna lo Zenit inquadratura al vostro segno e al vostro inquilino Plutone, da qualche giorno da voi abita anche Mercurio, ma per fortuna ad accompagnarlo c'è il piccolo Mercurio, in buona amicizia con Giove, che dopo un momento di disappunto, un mancato appuntamento, un treno perso, un viaggio rimette le cose a posto, regalandovi nuove opportunità, un incontro piacevole, una serata all'insegna del divertimento e del benessere. Amore ed Eros. In mente una persona che ha colpito la vostra fantasia, non tanto per l'estetica ma per la cultura e l'approccio intellettuale, nonostante il carattere pragmatico e realista vi ritrovate a sognare come sarebbero la vostra casa e i vostri futuri figli, dall'unione di due geni non potrebbero che nascere un futuro Tesla o una futura Madame Curie. Non date peso a qualche nervosismo che si verifica nel vostro menage, è solo un momento passeggero che si risolverà nei prossimi giorni. Continuando nella sfilata dei segni che possono legarsi in modo stabile e durevole con il capricorno, osserviamo il rapporto con i due segni d'acqua, scorpione e pesci, che sono complementari all'elemento cui appartenete, la terra. Con questi segni riuscite ad ammorbidire la vostra tendenza ad essere duri e puri, o, addirittura, certe volte proprio tutto ad un pezzo. La fantasia, la creatività, la forza dell'emozione, tipici dei segni d'acqua, sono providenziali per il vostro temperamento concreto che ha bisogno di essere un po' scosso nella sua staticità. L'unione capricorno, scorpione e capricorno, pesci si rivela spesso perfetta. Lavoro e denaro. Sbagliato aspettare che le cose si consolidino, perdereste un treno prezioso, meglio rischiare una delusione, ma attivatevi subito dando fondo alla vostra riserva di pazienza ed esperienza. In giro coi vostri pupi li sorvegliate di continuo perché non facciano guai, dicembre per i piccoli è una tale festa, così nuova ed eccitante che non riuscite nemmeno a sgridarli, la mente torna al passato, quando avevate pressa poco la loro età e la vita era un magnifico Luna Park. Siete a lavoro anche in questa festa dell'Immacolata? Se svolgete una professione che ha a che fare con il pubblico, cercate di non farvi troppo frastornare da alcune situazioni esterne quest'oggi e concentratevi sulle vostre mansioni. Benessere. Dieci e lode per la salute ma non per la silhouette, avreste bisogno di asciugarvi un po'. Denaro? Quale è il gioco che il vostro segno ritiene avvincente e in linea con le sue corde? Senz'altro il gioco degli scacchi. Così strategico e razionale, non può che conquistarvi. Per lei, basta con gli impegni responsabilizzanti, oggi concedetevi qualcosa di piacevole e utile solo per voi stesse. E che gli altri si aggiustino da soli. Per lui, in coppia tutte le decisioni spettano a voi, riuscite a leggere nel cuore della vostra lei regalando le emozioni intense. Un vero mago. Colore delle emozioni, grigio-azzurro. Barometro dell'umore, più vinginoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 6, finanze, 6, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo. Grazie per aver guardato il video.